Marco Verri, da sei anni preparatore atletico della Becchieri Piacenza, una Becchieri Piacenza con cui stai lavorando, in che modo? In questo periodo della stagione stiamo lavorando tantissimo sulla forza, sia in salla pesi che sul campo, con una metodica differente, in salla pesi ci stiamo appoggiando all'acrobatica che è il fitness club, che ci dà ampi spazi e possiamo usare varie prezzature. Sto lavorando moltissimo sull'eccentrica, su esercizi in base, perché ho notato che diventa un ottimo lavoro di prevenzione e così, oltre a lavorare sulla forza, stiamo cercando di tutelare l'integrità del giocatore e abbiamo ottimi benefici anche in termini di aumento del tonno muscolare. Diciamo dopo una sorta di pausa natalizia, comunque breve, abbiamo rifatto un lavoro di adattamento e adesso stiamo, in modo graduale, aumentando tantissimi carichi. Questo percorso durrà almeno cinque settimane, in cui cercheremo di aumentare tantissimo l'intensità, il volume per poi appunto nella fase clou dell'anno, cioè play-off, dovremo un po' tirare il rim in barca sulle mole di lavoro.